Lo sapevi che Tom Felton ha improvvisato una delle battute più divertenti dell'intera saga di Harry Potter? La battuta in questione la troviamo in Harry Potter e la Camera dei Segreti. Qui vediamo Draco Malfoy che incontra nei corridoi Goyle e Tiger, i quali però in realtà sono Ron e Harry che hanno bevuto la pozione polisucco. E molto sbadatamente Harry che aveva preso le sembianze di Goyle aveva dimenticato di togliersi gli occhiali. E Draco Malfoy, notato il dettaglio, non ha potuto fare a meno di chiedervi il perché li portasse. E Goyle, o meglio Harry, risponde che stava leggendo. E a quel punto Tom Felton, non ricordando le sue battute, ha improvvisato il tanto famoso quanto divertente Perché sai leggere? Genio!